Ma sono qui con voi per meditare un testo della parola di Dio. Da alcune settimane state esplorando i quindici salmi del pellegrinaggio. La settimana scorsa col pastore Michele Romeo siete arrivati al 128. Quindi oggi leggeremo il 129. Lo faremo non leggendo integralmente il testo ma verso per verso. Così da guadagnare tempo leggeremo un verso e lo mediteremo. Salmo 129. Sono quindici salmi dei pellegrini dal Salmo 120 al Salmo 134. There's 15 psalms of ascent from Salmo 120 to 134. 120, 134. Noi leggiamo il 129. From 120 to 134 and here today we're on 129. Quesito di matematica. What's that? Una domanda di matematica. Okay, a mathematics question. Il 129. Quale Salmo è in questa scala da 120 a 134? So 129. Which step are we on from 120 to 134? Primo, secondo, terzo, quarto. Quale? First, second, third, fourth. Nono o decimo. Nine or ten. Complimenti a chi ha detto il decimo. Perché dobbiamo contare anche il 120. Aprite le mani. 120. 121. 22. 23. 24. 24. 24. 25. 27. 27. 28. 29. Decimo. Non insegno matematica. Neanche aritmetica. Ma mi piacciono i numeri. È il decimo salmo di questi 15. 15. It's the 10th psalm in these 15. 15 psalmi che il pellegrino recitava andando al Tempio. 15 psalms that the pilgrims were reciting on their way to the Temple. Alcuni sostengono che li recitava lungo tutto il cammino verso il Tempio. Some think that they were saying these on their way, on the way to the Temple. Ma c'è anche un'altra spiegazione. There's also another explanation. Dal cortile che andava al Tempio, c'erano 15 gradini. From the courtyard to the Temple, there were 15 steps. Un'altra spiegazione dice che su ogni gradino, il pellegrino cantava un salmo. So another explanation is that on each one of these steps, the pilgrim would say one of the psalms. 15 gradini, ne siamo arrivati al decimo. 15 steps, and we've arrived at number 10. Se ci voltiamo, ci sono nove gradini dietro. E quanti davanti a noi? Se siamo al decimo. Cinque davanti. Il pellegrino ha fatto più di metà del percorso. Questi gradini possono rappresentare il nostro cammino cristiano. Quindi siamo oltre metà del nostro viaggio. So we're more than halfway through our voyage. Possiamo voltarci e vedere tanta fatica dietro di noi. We can turn and look back and see a lot of work and struggle behind us. E probabilmente oggi siamo in un punto in cui ci sentiamo stanchi. And so probably today we're in a point where we feel tired. Anche se mancano solo cinque gradini. Even though there's only five steps left. Vogliamo fermarci. We want to stop. Stiamo dicendo, basta. We're ready to say, that's enough. Ed io oggi attraverso questo psalmo voglio dirti, continuo. And so today through this psalm I want to say, continue. Leggiamo il primo verso. Let's read the first verse. Molto mi hanno oppresso fin dalla mia giovinezza, dica pure Israele. Questo canto, questo psalmo, questa preghiera inizia in questo modo. Molto mi hanno oppresso. C'è della fatica. C'è della sofferenza. C'è avversità. Il pellegrino ha chiaro nella sua mente la storia del suo popolo. The pilgrim has a very clear in their mind the story, the history of their people. E noi conosciamo la storia di Israele. And we know the history of Israel. Questo popolo chiamato attraverso Abramo. Ma finito schiavo in Egitto. Una giovinezza nella schiavitù. Their youth was in slavery. E poi l'esodo, il cammino della liberazione. Ma usciti fuori dall'Egitto, tante battaglie, tante avversità. But coming out of Egypt, so many battles and so much adversity. Nella storia di Israele, più volte deportato. In the story of Israel, many times they were deported. A Siria, Babilonia. To Siria and Babylon. Ritorno e deportazione. Return and then deported again. Quindi nella sua storia, tanto dolore. Fino ad arrivare ai nostri giorni. Un popolo che ha conosciuto la Shoah. Noi siamo vicini al popolo di Israele. Un popolo in guerra ancora oggi. Ma noi meditiamo la scrittura e non facciamo politica. Perché ai nostri giorni ogni guerra è una sconfitta. Gesù ci ha insegnato a non fare la guerra. Ma a porgere l'altra guancia. A porgere l'altra guancia. A perdonare. Anche quando è difficile. Il nostro pellegrino è oppresso. E dice, molto o molti mi hanno oppresso fin dalla mia giovinezza. E il verso 2. Lui invita il popolo, Israele. Ma oggi noi chiesa. Israele spirituale. A dire queste parole. Molto mi hanno oppresso fin dalla mia giovinezza. Ciascuno di noi ha un carico di sofferenze. Oppressione. Delusione. Amarezze. Bitterness. Ma il verso continua. Eppure non hanno potuto vincermi. Ecco la chiave che dà forza al pellegrino. Questa è la chiave che dà forza al pellegrino. Mi guardo indietro. E sono ferito. E sono addolorato. Sono stanco. Potrei dire, non vado più avanti. Ma ciò che devo dire a me stesso è che se sono qui oggi i miei nemici non mi hanno potuto vincere. Dillo insieme a me i miei nemici non mi hanno potuto vincere. perché colui che è con me è più forte è più forte è più forte di colui che è nel mondo. La nostra forza è nel Signore. Amen. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. E dove trovi la gioia? Guardando il Tempio che è davanti a te. La nuova Gerusalemme. Quella che il Signore ha preparato per i Suoi Santi. E allora se oggi ti mancano le forze considera cinque gradini ancora. Terzo verso. Gli aratori hanno arato sul mio dorso vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. E' bello dire che con il Signore siamo vincitori. E' facile dichiarare per fede io posso ogni cosa in Gesù Cristo. E' facile dire che con la fede posso fare tutto in Cristo. Ma alzare il piede e metterlo sul gradino dopo quando hai dolori di articolazione alle ginocchia. Quando hai la schiena bloccata. Quando ti manca il respiro nei polmoni. Quando hai sul dorso ferite come dei sulchi. Questo salmo descrive le sofferenze con un linguaggio agricolo. Gli aratori hanno arato sul mio dorso. Tenete presente l'aratro dietro ai buoi. L'aratro è uno strumento con dei denti che attraversa il terreno e lascia dei solchi nei quali poi il contadino sparge il seme. Questo pellegrino dice che un aratro ha lasciato dei solchi sulla sua schiena. Ciascuno di noi ha sicuramente dei solchi sulla schiena. Joe forse in verticale e il pidio in orizzontale i tuoi come sono? In diagonale ma tutti abbiamo dei solchi. ma nel sulco della sofferenza nel sulco della sofferenza la grazia di Dio fa germogliare il seme del Vangelo. Solo chi ha conosciuto la sofferenza apprezza l'amore e il perdono di Dio. Solo chi ha tanto sofferto può tanto amare. Non lo dico io lo ha detto Gesù. chi ha tanto sofferto e tanto gli è stato perdonato riesce tanto amare e tanto a perdonare. cinque gradini non fermarti alle tue ferite perché mentre il pellegrino pensa alle sue ferite e probabilmente tu hai qualche solco aperto ancora stamattina c'è il verso quattro l'Eterno è giusto quando noi soffriamo domandiamo perché dov'è Dio perché a me la scrittura dichiara l'Eterno è giusto Dio sa quello che fa oggi noi non comprendiamo un giorno comprenderemo appieno ma per comprendere devi salire gli altri cinque gradini non puoi fermarti al decimo ma c'è una parola di speranza l'Eterno è giusto ma non resta a guardare Dio ama quelli che lo servono Dio ama quelli che lo temono anche se oggi sei nel dolore l'Eterno che è giusto continua il verso 4 egli ha spezzato le funi degli empi qui il pellegrino quando parla delle funi sta pensando alle funi che mantengono il gioco che ha solcato la sua schiena quindi l'Eterno che è giusto non ti farà soffrire per sempre ma quando Egli vorrà viene e taglia spezza le funi se ti volti e guardi ai nove gradini quante volte Dio ha già spezzato delle funi quante volte ha spezzato delle catene la prima catena che ha spezzato è quella del peccato attraverso la morte e il sangue di Cristo siamo stati liberati siamo usciti dall'Egitto abbiamo cominciato il nostro cammino abbiamo messo il piede sul primo gradino e gradino dopo gradino passo dopo passo siamo arrivati al decimo l'eterno è giusto credilo e dichiaralo gli empi gli avversari i cattivi i malvaggi ci saranno sempre ci sarà sempre qualcuno che ti farà soffrire sempre spero non sia tua moglie o tuo marito qualche figlio il vicino di casa il datore di lavoro un amico gli uomini e le donne deludono maledetto l'uomo che confida nell'uomo l'eterno è giusto verso 5 siano tutti confusi e voltino le spalle coloro che odiano Sion come pellegrini noi stiamo andando verso la Gerusalemme celeste il nostro sguardo è verso la Gerusalemme quelli che odiano Gerusalemme quelli che non credono che l'eterno è giusto quando non vuoi andare in un posto cosa fai ti giri si dice girare voltare le spalle quando una persona non ti è simpatica non vai verso di lui giri le spalle e vai nella direzione opposta ricordate Giona quando non vuole andare a Ninive va nella direzione opposta e prende una nave per Tarsis così quelli che non amano Gerusalemme e il Signore voltano le spalle ma la Bibbia dice che sono confusi chi volta le spalle a Dio sarà confuso perciò non voltarti ma continua dritto lascia che il tuo sguardo sia rivolto al Signore non preoccuparti di nemici o giganti perché saranno confusi anche dal Signore chi è contro Dio e contro la sua Chiesa sarà nella confusione e il verso 6 dice siano come l'erba dei tetti che si secca prima di crescere chi sceglie la malvagità chi ha scelto la cattiveria chi ha voltato le spalle a Dio è come l'erba dei tetti dura poco secca prima di crescere perché non ha radici nel terreno è alimentata dall'umidità che è sul tetto una giornata come oggi con questo sole la secca immediatamente e noi non vogliamo essere come l'erba dei tetti ma vogliamo essere come gli alberi piantati lungo i rivi d'acqua come dichiare il salmo uno coloro che scelgono la malvagità sono come l'erba dei tetti seccano prima di crescere e il verso 7 dice non riempie la mano il mietitore né le braccia chi lega i covoni quest'erba è poca roba se la strappi non riempie la mano perché è corta e sottile non puoi fare un covone di quest'erba il covone con l'erba che è sui tetti non puoi raccogliere il covone di grano non preoccuparti è poca roba l'erba sui tetti è piccola chi sceglie di vivere dalla parte del male a vita breve chi sceglie il peccato non vivrà in eterno nella Gerusalemme celeste chi sceglie la delinquenza non avrà una vita felice e la chiesa non può coprire la malvagità la chiesa non può sostenere guerre ai nostri giorni la chiesa deve denunciare il peccato la chiesa deve essere sempre dalla parte di Cristo in maniera chiara netta anche se ci costa sofferenza anche se ci costa dolore pensate a Gesù che ha salito i gradini del Golgotha avendo sulla sua schiena i solchi delle frustate sulla croce ha gridato Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato Gesù conosce la tua sofferenza Gesù non ha chiamato gli angeli dal cielo a liberarlo non è sceso dalla croce e ha fatto guerra all'impero romano ma dalla croce ha detto padre 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 perdona loro perché non sanno quel che essi fanno e noi dobbiamo guardare a Gesù verso 8 e i passanti non dicono la benedizione dell'eterno sia su di voi noi vi benediciamo nel nome dell'eterno la chiesa non può benedire la malvagità non possiamo approvare l'empio nel periodo della raccolta in Israele quando si andava nei campi a raccogliere il frutto l'uno diceva all'altro ti benedica il Signore così come io dico a Danilo il Signore ti benedica a Castelvolturno e Danilo dice ad Elpidio il Signore ti benedica a Casal di Principe ed Elpidio e Danilo dicono a tutti vi benedica il Signore ovunque siate perché nei nostri cuori non c'è contesa non c'è divisione ma c'è la speranza di arrivare all'ultimo gradino e il nostro pellegrino ci ricorda che 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 vivono nella malvagità non possono benedire può benedire chi è benedetto da Dio tu e Dio siamo chiamati a benedire questo mondo non approveremo mai il peccato di questo mondo non sosterremo mai la malvagità di questo mondo ma diremo a questo mondo che c'è speranza nel nome di Gesù che c'è salvezza nel nome di Gesù che c'è perdono nel sangue di Gesù che c'è amore nella chiesa di Gesù che c'è ospitalità nella chiesa di Gesù ma c'è anche sofferenza c'è pianta c'è dolore vi dicevo di Gesù sulla croce vi ho detto di Gesù sulla croce e con questo voglio concludere ricordandovi che Dio ha avuto ed ha un figlio senza peccato ma non ha nessuno senza sofferenza se Gesù ha sofferto ci tocca anche a noi non è un Vangelo molto bello ma è un messaggio a termine perché sono solo quindici gradini e poi entreremo nella Gerusalemme e l'Apocalisse dice che lì non c'è pianto lì non c'è dolore lì non c'è sofferenza ma dobbiamo arrivarci Dio ci aiuti e quando le forze vi vengono meno andate a leggere il Salmo 129 e dite a voi stessi l'Eterno è giusto Egli ha reciso le funi degli empi Dio vi benedica mi fermo qui grazie